amici di cultura pop siamo qui oggi per farvi vedere in anteprima l'interfaccia grafica dell'app disney plus nella sua versione italiana su dispositivo apple sto utilizzando un iphone 8 in questo momento e vi faccio vedere un po com'è l'interfaccia che troverete al giorno del lancio ufficiale di disney plus una volta avviata l'app la prima cosa che viene presentato ovviamente dopo aver fatto la login io l'ho fatto in precedenza è una carrellata dei contenuti principali con uno splash screen in alto che vi fa vedere quali sono i contenuti su cui punta l'attenzione la piattaforma in questo momento sotto ci sono i canali tematici disney pixel marvel star wars e national geographics dopodiché una serie di contenuti raccomandati in questo momento ovviamente avendo fatto il primo accesso la profilazione dei miei gusti è nulla quindi mi fa vedere una serie di proposte lasche anche se devo dire che in questi giorni con le bimbe in casa ho visto spesso sia oceania che frozen e mi fa specie vederli proposti proprio tra le possibilità e in più ovviamente vi manda lorian una delle serie su cui puntano quindi viene proposta sicuramente la seconda parte dell'interfaccia è dedicata alle novità quindi le novità in catalogo disponibili prima di fare questa registrazione ho guardato una puntata di star wars resistance mi viene proposto come contenuto da proseguire di cui proseguire la visione dopo che vengono proposte le commedie i film campioni di incasso quindi in questo caso i film di più successo da marchio disney pixar gli originali quindi le serie realizzate appositamente per la piattaforma disney plus eccole qui queste sono le prime disponibili tra serie tv film e documentari i titoli del momento quindi quelle che loro ritengono le loro top da poter visionare dopodiché una parte dedicata alle collection quindi le raccolte per tipologia di brand quindi toy story star wars x-men guardiani della galassia e via dicendo e una parte dedicata ai documentari poi si ritorna alla parte tematica quindi azione avventura film nostalgici film in alta altissima definizione quindi le proposti in hdr e ultra hd quindi qui trovate già subito i contenuti alla massima risoluzione oggi disponibile su disney plus dopodiché si prosegue con le parti tematiche animali natura film sportivi ritorno dal passato quindi grandissimi classici film storici come per esempio tron e affini dopodiché film di animazione musical i corti tematica poi che ovviamente si prosegue paperini sui amici più amati di disney channel e i film però le proposte proprio per i più piccoli con disney junior questo è tutto ciò che trovate in home page poi c'è una funzione di ricerca dove potete ovviamente cercare per nome brand o quant'altro con anche qui delle proposte messe anche suddivise in genera in original in film quindi movie e in serie la possibilità di guardare eventuali contenuti scaricati in download e poi tutti gli elementi legati al profilo per curiosità se aggiungete un profilo potete vedere tutte le icone divise anche queste per tematica disney marvel star war e pixar da poter associare al vostro account o agli altri account che andrete a configurare man mano in base alla tipologia di abbonamento che avete sottoscritto ecco qui ritorniamo alla pagina home page per farvi vedere cosa c'è nelle sole sotto categorie disney quindi qui ovviamente tutti i contenuti tra film d'animazione live action e serie tv e quant'altro legate al brand disney con anche delle tematizzazioni per esempio topolino negli anni quindi tutti i film e i prodotti a tema mickey mouse dopo che dopo di che vediamo per esempio la parte dedicata principessa fiabe e disney junior tornando alla home passando invece al menu pixar alla sezione pixar troviamo ovviamente tutti i prodotti invece legati a questa casa di produzione con gli originali come prima proposta con tutte le serie nuove poche in questo momento ma che andranno sicuramente a aumentare il loro numero man mano che verranno prodotti e lanciati nuovi elementi dopodiché abbiamo film corti e via dicendo toy story cars anche qui c'è una aggregazione di elementi per tipologia per brand sotto marvel troviamo partiamo subito con l'universo con l'universo cinematografico quindi possiamo vedere tutti i grandi film prodotti a oggi e disponibili sul mercato e disponibili sulla piattaforma disney plus quindi l'universo cinematografico marvel dopodiché gli altri film marvel con tutta la saga degli x-men e i fantastici 4 le serie tv e gli speciali live action ecco qui dopodiché le serie dedicate all'animazione le mini avventure le storie delle origini quindi tutti i primi episodi di presentazione dei personaggi dell'universo marvel e così via passando invece a star wars si inizia subito con le serie tra animate e non disponibili comprese anche le serie a brand lego dopodiché tutti gli episodi di dei film di star wars fino arrivare all'ultimo episodio trasmesso quindi quello che chiude la saga degli skywalker una sezione dedicata ai corti una dedicata agli speciali a tema star wars e poi anche qui star wars negli anni la collezione darvader e un po di approfondimenti chiude però per ora la tipologia di elementi di chi è dedicati a disney plus dopo disney pixar marvel e star wars ci sono i contenuti specifici di national geographics vediamo qui ovviamente delle serie dedicate a national geographics i film a brand national geographics serie serie divise anche per scienze innovazione esplora il mondo e via dicendo quindi questo è un overview della piattaforma ho provato anche a lanciare lo streaming video sul televisore di casa la funzionalità è andata senza nessun problema io ho un samsung q9f quindi un televisore decisamente moderno è andato senza problema il collegamento con il televisore lo streaming è stato immediato 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 alla riproduzione ottima la qualità video per quel poco di test che ho fatto fino ad ora l'app è arrivata disponibile per la stampa da pochissime ore quindi ci tenevo subito a farvi vedere che cosa contiene e come vedete l'impostazione grafica è abbastanza tipica e allineata con gli altri prodotti gli altri piattaformi streaming del attualmente sul mercato quindi si trovano molti punti di molti punti di collegamento con quanto visto su netflix o quanto visto su amazon prime video la modalità di presentazione dei contenuti è ovviamente ovviamente similare che dire questo ovviamente è un'anteprima per la stampa di come troverete poi al lancio del fra pochi giorni dell'app del sistema di streaming disney plus che avete acquistato il 24 marzo è il day one e i contenuti che avete visto in questo momento non saranno propriamente questi potranno differire perché mentre la piattaforma è completamente quella italiana infatti se vedete tutti le descrizioni sono in italiano tutti gli episodi sono in italiano e tutti gli elementi anche no questo è in inglese perché alcuni quello che stiamo vedendo è il link ai contenuti del non del marketplace italiano prettamente ma sono quelli della versione di olandese quindi potranno cambiare quelli che troverete sulla piattaforma italiana potrebbero esserci alcuni più alcuni meno dipende dai diritti specifici del paese che disney ha riportato a sé come sapete al lancio ci saranno un numero elevatissimo di film e contenuti disponibili ma non tutti quelli sul mercato a marchio disney perché alcuni contratti sono ancora in essere con altre piattaforme di streaming o altri network e man mano che questi contratti finiranno di essere validi i film e i prodotti verranno le serie tv verranno riportati all'interno di disney plus ma fino a quel momento paese per paese ci possono essere degli elementi non disponibili su disney plus perché ancora in contratto con altri network vi dicevo questa è esattamente l'interfaccia che voi troverete sul vostro cellulare in questo caso un iphone il giorno del lancio i contenuti invece potranno differire perché questi sono i contenuti che ci sono a oggi sul app olandese sul marketplace olandese per questa preview dell'interfaccia di disney plus è tutto per qualsiasi domanda o curiosità non esitate a scrivere nei commenti del video che state guardando o a contattarci su cultura pop e tom sardware italia e vi auguro a tutti una buona serata e vi aspetto per poi chiacchierare tutti insieme di quello che si potrà vedere su disney plus buona giornata e a prestissimo buon giornata e vi auguro a tutti